Riprendiamo la nostra diretta, dunque stamattina vogliamo parlare di un tema importante, un tema di alto valore sociale che è promosso tra gli altri partner anche da Caritas Italiana. Io voglio dare il benvenuto a Caterina Boca, referente del progetto microcredito di libertà. Stamattina assieme a Caterina parleremo di questa iniziativa davvero molto bella, molto interessante che vi invitiamo davvero a seguire. Innanzitutto buongiorno a Caterina e grazie per essere con noi. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Allora, il microcredito di libertà, innanzitutto dovremmo vedere i nostri siti internet che la regia ha preparato, un progetto nazionale nato per aiutare le donne vittime di violenza domestica ed economica, coinvolge la Caritas Italiana, 20 Caritas Diocesana, una per ogni regione. È un'iniziativa che ha il patrocinio del Dipartimento per le Pari, opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un fondo specifico di 3 milioni di euro destinato proprio a questo microcredito. Allora Caterina, puoi spiegarci i dettagli di questa iniziativa così bella, così interessante? Sì, l'iniziativa è molto interessante perché consente alle donne vittime di violenza di poter usufruire di un fondo per un massimo di 10 mila euro ciascuno, nel nostro caso il microcredito sociale, per poter affrontare delle spese personali o familiari che altrimenti non sarebbero sopportabili. C'è questo legame tra la donna vittima di violenza, quindi una persona che evidentemente ha subito anche una serie di situazioni nella propria vita che l'hanno anche costretta a cambiare la vita. Spesso le donne vittime di violenza non lo sappiamo, ma sono quasi come dei testimoni di giustizia, a volte devono non solo cambiare casa, ma cambiare città, cambiare relazioni, amicizie, stare a volte, talvolta anche attente alle relazioni, non possono dare il numero di telefono a chiunque. È una vita molto faticosa quella della donna che ha subito una violenza, è come se non ti lasciassi mai alle spalle realmente quello che è accaduto. Il microcredito è questa risorsa ulteriore che viene concessa alle persone che si trovano in una condizione di evidente stato di bisogno e che appartengono a quella categoria cosiddetta non bancabile. Sono persone che altrimenti se si ricassero in banca a chiedere un finanziamento anche minimo non lo potrebbero avere perché non hanno le garanzie sufficienti. Quindi insieme, il microcredito è questa grande risorsa, questa iniezione di fiducia possiamo dire, e la donna che ha subito una violenza ma vuole ricominciare la propria vita, insieme convergono e questo progetto sta dentro questa convergenza con l'obiettivo anche di dare speranza e fiducia. In effetti ricordiamo che ci sono anche diverse banche che hanno aderito a questo progetto, 14 banche territoriali tra cui le banche di credito cooperativo, le BCC, le casse rurali, Unicredit. Dunque è un progetto che a 360 gradi coinvolge una sfera economica che troppo spesso, scusate, il fenomeno della violenza domestica viene anche per certi versi eclissato perché troppe volte ci si sofferma forse sul dato, come dire, più legato alla violenza in sé. Ma c'è anche poi un dopo che è appunto quello delle ripercussioni che dal punto di vista economico chi è vittima di violenza deve affrontare in qualche maniera. Allora, quello che vorrei chiederti Caterina è, partendo quindi dai capisaldi del progetto, qual è la realtà che vi viene descritta, dunque ciò che è alla base di questa progettualità e perché il microcredito è la scelta più opportuna per aiutare le tante vittime di violenza domestica? Il microcredito è appunto uno strumento, noi diciamo spesso generativo, è uno strumento comunitario, cioè uno strumento in cui ciascuno mette un pezzo e la donna mette anche la sua capacità di ricominciare la propria vita, di riacquistare fiducia in sé stessa. Non è uno strumento semplice, non è uno strumento che consente il riconoscimento di un fondo perduto, c'è proprio l'idea della restituzione, un finanziamento vero e proprio. Non a caso c'è un fondo di garanzia che è stato istituito, ci sono delle banche alle quali dopo l'istruttoria della pratica la donna potrà rivolgersi e che le erogheranno il finanziamento. Ci saranno anche dei doveri da parte della donna, quindi dover rispettare le rate del finanziamento. Ma c'è anche la presenza della Caritas italiana che attraverso le sue Caritas diocesane svolge un importante ruolo perché affianca la donna, sia nella costruzione anche della sua idea, sia anche nel verificare anche la capacità che ha la donna di poter affrontare quel finanziamento, sia poi successivamente anche nell'impegno alla restituzione. E sì, infatti vorrei chiederti Caterina, proprio qual è il ruolo della Caritas? Perché tante volte anche dalle storie che si leggono sui giornali, su internet, le Caritas sono il primo punto di arrivo, diciamo così, il primo punto di approdo di queste vittime di violenza che purtroppo non hanno da chi andare. E allora qui la Caritas gioca un ruolo fondamentale? Sì, esatto. La caratteristica delle Caritas e dei servizi, anche delle Caritas che sono servizi di prossimità veri, è l'ascolto. Le persone vengono nei nostri servizi, centri di ascolto, i servizi di accoglienza, anche le mense e vengono riconosciute, vengono ascoltate. I loro bisogni diventano i bisogni anche di chi li ascolta e insieme si cerca di capire dentro quel bisogno chi fa cosa per poter uscire poi anche da una condizione di fatica e di disagio in cui la persona si trova. Quindi il microcredito che ha proprio da legge, cioè l'articolo 111 del testo unico bancario che istituisce il microcredito, riconosce anche la funzione importante di chi fa l'accompagnamento, che generalmente in un normale finanziamento noi non abbiamo, in un normale finanziamento si va in banca, ci sono le condizioni per avere quel finanziamento, viene dato il finanziamento e poi, come dire, la relazione finisce là, meno che non ci sia un problema nella restituzione delle rate. Invece in questo caso c'è un accompagnamento che è un pre-finanziamento, quindi l'operatore della Caritas di Ocesana ascolta la persona, verifica le sue capacità, le sue condizioni, qual è anche il bisogno della persona, l'accompagna anche nella relazione con la banca e l'accompagna successivamente. C'è un aspetto molto interessante di questo progetto, ma è più in generale di questi progetti, ed è anche il tema dell'educazione finanziaria. Noi abbiamo notato anche negli ultimi anni, anche con i nostri rapporti povertà, di come in questo momento anche in cui i temi del consumismo, i temi anche di questa società così, che ci porta anche a dover essere spesso anche quello che non volevamo neanche essere, ci portano anche a spendere soldi più di quanti realmente potremmo spenderne. E in questo progetto, e più in generale, nel microcredito, nell'accompagnamento c'è anche l'educazione all'utilizzo del denaro. Quindi viene dato come strumento il bilancio familiare, in cui la donna viene chiamata anche a verificare le entrate e le uscite, a capire se in quel mese sono di più o sono di meno, ricordandosi che c'è anche la rata di questo finanziamento, ma anche altre spese che deve effettuare. Quindi un accompagnamento all'utilizzo del denaro, che oggi è forse uno degli elementi anche più significativi dei nuovi strumenti di accompagnamento e di assistenza nei confronti delle persone più vulnerabili. Io vorrei dare qualche numero, Caterina, anche per inquadrare un po' quella che potrebbe essere la dimensione potenziale, la platea, per utilizzare un termine tecnico, delle donne che potrebbero utilizzare questo strumento. Perché noi parliamo di solo nel 2023, oggi è 20 giugno, dunque siamo neanche a metà dell'anno. 49 sono le donne uccise nel 2023. Come non ricordare anche il caso che ha sconvolto tutti, quello di Giulia Tramontano. 22 mila sono le donne che ogni anno si rivolgono a un centro antiviolenza per ascolto, per aiuto. E poi ancora il 27%, pensate, cari amici telespettatori, è la percentuale di donne che denunciano la violenza subita alle autorità. E allora dunque capiamo il ruolo fondamentale anche di Caritas, ci riallacciamo a questo discorso molto importante che faceva Caterina di questo primo presidio che aiuta, ascolta le tante vittime di violenza. Io vorrei però adesso, visto che siamo quasi in chiusura Caterina, chiederti di raccontarci degli esempi anche di donne che ce l'hanno fatta da questo punto di vista. Perché si parte da una progettualità, l'abbiamo ascoltato, molto bella, molto interessante, ma ci sono anche dei casi che hanno per certi versi ispirato, potremmo dire così, questa progettualità e che sono anche un motivo di sprone per coloro le quali vogliono in qualche maniera intraprendere un percorso del genere. Guarda, i casi sono tanti e anche in questo primo mese di lavoro con i colleghi delle 20 Caritas Gesane che hanno aderito a questo progetto, ne stanno arrivando di ulteriori. Abbiamo casi di donne che non avevano, ad esempio, potuto continuare il loro percorso di studi e lo hanno terminato, invece lo hanno riaffrontato, terminato, hanno preso anche un'ulteriore, diciamo, formazione professionale e hanno potuto quindi provare anche il piacere, essere riconosciute anche come delle donne che possono andare a lavorare, che svolgono una professione dignitosissima e ce ne sono diverse, così come alcune, ad esempio, che stiamo cercando, iniziando ad aiutare, che hanno deciso di svolgere dei corsi professionali, ma ad esempio non avevano la patente, non avevano la possibilità di, perché non gli era stato mai permesso di avere quell'autonomia e quindi grazie a questo progetto, ad esempio, potranno affrontare il corso per avere la patente e poi acquistarsi magari una piccola vettura anche di seconda mano per poter andare a lavorare perché spesso poi per lavorare bisogna spostarsi. Ma ci sono anche delle donne che hanno, di recente c'è stata questa bella iniziativa, alcune donne che hanno costituito una cooperativa, grazie anche a un altro progetto molto interessante, insieme una cooperativa, hanno preso un bene sequestrato alla mafia, gli è stato assegnato e attraverso questo bene, la terra intorno a questo bene, hanno messo su una cooperativa agricola e sociale che è un valore incredibile, poi per l'intera comunità mette insieme una serie di elementi anche, no? che possono sembrare delle sconfitte invece la capacità di costruire qualcosa su quelle che possono invece sembrare sconfitte sociali, sia la propria vita che anche il tema del bene sequestrato alla mafia o delle terre incolte ed è questo il grande valore, quando noi diciamo che sono progetti generativi ci riferiamo proprio a questo, generativi nella misura in cui costruiscono reti, relazioni, comunità oggi abbiamo bisogno di questo, di stare insieme, quando Papa Francesco ci dice che non ci salviamo da soli questo è anche questo, sta anche in questo, saper fare rete tra di noi, saper fare comunità saper costruire insieme, la parola d'ordine deve essere noi insieme ed è la parola che ci aiuta, che ci salva Allora Caterina ti chiedo giusto pochi secondi per ricordarci quali sono i riferimenti internet anche perché diciamo è da lì che si muove un po' tutto ovviamente Dacci tu qualche indicazione dalle nostri telespettatori così ci salutiamo Allora in realtà chi vuole avere informazioni può anche scriverci l'indirizzo è progetto root ruth chiocciola caritas.it e ricordo anche il 1522 il 1522 è il numero di telefono dedicato dal governo alle donne vittime di violenza normalmente i picchi più alti di chiamata si registrano in occasione delle giornate dell'8 marzo o del 24 novembre alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne perché si ricorda spesso quindi più lo ricordiamo questo numero il 1522 più abbiamo possibilità di aiutare le donne e poi se volete scriverci progetto root chiocciola caritas.it vi rispondiamo vi diamo tutte le informazioni possibili per accedere al progetto Bene Caterina allora ritienici a disposizione per qualsiasi aggiornamento da questo punto di vista abbiamo i nostri abbiamo i contatti vicendevoli quindi noi siamo a disposizione per questa causa davvero nobile davvero giusta e speriamo davvero che il microcredito di libertà possa decollare così come l'esistenza di coloro le quali si rivolgono a voi grazie di cuore per essere stata con noi, grazie Grazie a voi, grazie mille, buongiorno a tutti Grazie, grazie a Caterina Bocca noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorniamo insieme Grazie a voi, grazie a tutti